Poi ci possono essere situazioni che magari, e questo vale anche per il trust però, che ho fatto il fondo, ho fatto il trust per scappare perché già avevo dei problemi, esiste la devocatoria, possono decidere tramite un giudice di dire che quel trasferimento di bene o nel fondo patrimoniale o nel trust non è efficace perché già sapevi di avere dei debiti e questo vale per qualunque operazione.